I piccoli nani, i nanessi, dai, nani nuovi, plenamente Subito dopo di loro, Honesty E Ace, guarda ragazze, qua, 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 avanso Gli Ace e G.I. Michael E anche Martina, di ciao Ciao Aspetta, però Martina deve dire pure un'altra cosa No, la facciamo dopo con Dario Allora, dopo gli Ace abbiamo Le Killa Un gruppo Ormai non più di Pindi Ma di E poi Gruppo di Dancehall Allora, il gruppo di Whatsapp di Dancehall si chiama Kuli Anarchici Che si muovono da solo Ok, il gruppo Puzzle Fries che è formato da un po' di loro e un po' di altra gente Quindi qua ragazzi Eccoli, Puzzle Fries La nostra Lulu E poi E poi E poi qui ne abbiamo due Che può rendire Auguri a tutti E poi Iconics Qui davanti Ok E penultimi Ma non ultimi Delirium Kramer Grazie Grazie Allora Visto che è qua davanti Allora No, no, aspetta Allora Quest'anno Io e Fries Mi franceggiamo 20 anni di carriera Ok Cioè Nel 90 Abbiamo iniziato questo percorso